Per me non esiste differenza di genere nel mondo dell'arte. È vero che ci sono delle donne che hanno lavorato illuminando veramente quello che è il nostro concetto di femminile o d'altro canto uomini che hanno illuminato quello che è il concetto di maschile. Però ci sono anche degli artisti o delle anime che rimangono al di fuori di quello che è il genere. Dipende dall'interesse dell'artista, che cosa vuole esporre di sé, di che cosa vuole parlarci, quali sono i temi. Se effettivamente il tema è il genere, sì, ci sono artisti che sottolineano la differenza. Ma se le tematiche sono altre, a volte ho visto uomini, artisti uomini, lavorare come se fossero delle donne. Ho pensato, queste sono artisti e viceversa. A me tante volte hanno detto diversi curatori, specialmente quando dipingevo molto, che avevo la mano di un uomo, la forza di un uomo. E a volte, quando qualcuno non conosceva bene le mie tele, le scambiava per qualcun altro. Dicevo, ah sì, è quell'artista là, è quell'uomo là, è quell'artista là. Dicevo, no, no, è della Simona Barzaghi, no, non è possibile. Ma è vero, questa forza, questa intensità. Ma ce l'ha quell'artista là? E vabbè, perché la donna non ha solo il segno leggero, raffinato. Io sono una che ama scavare, entrare dentro le cose, spogliarle. E quindi non mi è mai successo di farlo sempre con molta delicatezza, dipende che cosa voglio raccontare. E quindi quando disegnavo, quando dipingevo, graffiavo. E mi hanno scambiato spesso e volentieri per un uomo. Ma va bene. Ecco, dipende, insomma. Per me non esiste nessuna differenza. Esiste la forza dell'anima e quello che si vuole raccontare. Ho trovato artisti uomini molto più delicati di me nel disegno. E per me la differenza è lì, quello che si vuole nella propria poesia, nella propria poetica. Che diventa un segno più aggressivo, più delicato, un gesto sacro o desacralizzante. Un verso, un'azione di un tipo piuttosto che un colore di un tipo piuttosto che un altro. È una poetica. Non vedo il genere.